Buongiorno a tutti ragazzi, sono qui in camera mia a fare un vlog, sono sul letto e in questo momento dovrei studiare, ecco in bocca, tra l'altro dovrebbe essere il penultimo giorno che sto preso di mamma, dovrei caricare un video la settimana prossima, forse più in video, visto che ho risolto il problema dell'audio, era una cosa della privacy della playstation, e che dirvi, vanno 28 gradi e mezzo, non so se i miei amici di un po' li saranno squagliati nel frattempo, o li troverò per terra come delle chiazze di pozzanghere, visto che stiamo parlando di caldo, tra l'altro è una cosa troppo figa che ho visto, è una macchina realizzata con carrozzeria a stile Batman, ed è troppo figa. poi cos'altro, qui in nuvoloso dovrei consegnare il computer a papà perché l'azienda lo arrivole indietro, e anche sti cazzi del marmo, e ho rotto il volante, ho tentato di aggiustarlo, ma si è rotto di nuovo, infatti sto cercando di ripararlo, poi cos'altro, ho anche fatto un tentativo di ripristino di un computer vecchio quanto mio nonno, e non ci sono riuscito, poi una cosa che farò sarà tipo, che ne so, montare le frecce e lo stop, la mia bicicletta, visto che qua a Torino nessuno conosce il segno che quando il ciclista gira mette il braccio fuori, o che quando rallenta mette la mano sotto e fa così. c'è gente stronza che guida, quindi penso che la patente l'abbiano presa al ceppu come il del Piero, ovviamente non era riferito ai tifosi della Juventus, era riferito al giocatore, senza offesa, perché è giuventino, ma tutti quanti lo sfottano, compreso Aldo Gioni e Giacomo. e sono qui a casa, stiamo cintiscando, anzi inizio ora dovevo studiare storia, queste quattro cazzate qua varie, quattro cazzate merda, cos'è la, propriamente la chiesa cattolica, il concilio di Trento, 1500. a me piace il periodo quando si è inventata la pila, che tutte le città erano connesse alla corrente elettrica, e poi storie di primo livello, il secondo e il terzo è tutto racchiuso o in dei fascicoli, non ne vale la pena di studiare, tanto poi i documenti venivano distrutti che si inventavano tutto, tra l'altro ho tolto l'apparecchio, tra l'altro da notare una cosa, i denti, che piano piano si stanno sbiancando, anche c'è un sonno. che cazzo di raggio dell'azione c'è, questa telecamera anteriore, un chiametto il dito sopra la telecamera, non sopra così, e mi rileva il dito, sti cazzi, holy shit. tra poco griglio, facciamo una grigliata, boh shalla, shalla, non so come si usa, in altri in altre regioni, il mio compagno ha inventato una nuova parola, il freak kick di dio, non so che cazzo significhi. sarà la mossa speciale sua di calcio, di cui becca le persone, tipo fa carambola. stiamo, questa è la mia piccola patente, dovevi fare le iscrizioni tre mesi prima, la mia piccola patente. quasi il 18, allo subito. speriamo di superare la teoria, che sono diventati bastardi i test. nel senso, ho installato l'applicazione sul telefono, che si chiama quiz patente guider vai, che tratta solamente di teoria. e ti fotte un sacco con le domande di primo soccorso. primo soccorso, precedenze, segnali stradali che non hai manco visto in campagna o tra un si, gente che è fatta amarrate sul corso francia l'abbiamo già avuto e hanno avuto gli esiti alquanto scadenti. non solo devi derapare e anche saper ritornare in asse. e se non schiacci bene l'acceleratore o il dosi bene il gas, non è che può fare chissà quali derapate. boh, sono 8 minuti di video, non so cos'altro dire. comunque sono queste le cuffie che sto usando. adesso ve le faccio vedere, sono queste. scrivo una marcia e ho usato queste per fare alcuni video. e mi pare che si senta da dio. c'è una roba troppo spettacolare. mi è scoppiata una granata e mi ha fatto sparare un colpo micidiale al cuore. nel senso... faccio tuttum 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 tuttum. e da lì un po' gli ho detto sti cazzi delle cuffie. non solo ho messo la modalità su Call of Duty Black Ops 3 come dire... in modalità super complesso. ho messo anche sulla play il bit stream Dobli che dovrebbe essere migliore. comunque ragazzi vi saluto magari ci sentiamo la prossima settimana o questa settimana che viene e farò un gameplay di nuovo su COD finché non trovo un gioco di macchine per me. bella spolliciate saluto i miei amici Matteo Gabriele Miriam Amilcare Paolo Stefano poi Sara poi saluto anche che altro c'è? mi sto dimenticando di qualcuno Simone poi che l'ho già detto e Daniele vi auguro una buona giornata grazie a tutti